Intelligenza artificiale. Legate alla tecnologia, al mercato e alla propria leadership. Giugno 2023 Innovazione come funziona l'Edge Computing Conosciamo meglio una tecnologia che ha rivoluzionato molti settori e che permette di elaborare in tempo reale i grandi dati raccolti dalle aziende, migliorando costantemente la produzione e abbattendo i costi. Maggio 2023 Intelligenza artificiale e intelligenza artificiale in campo medico, quali sono le applicazioni oggi secondo il report Artificial Intelligence in healthcare market, growth, trend, Covid-19 Impact and Forecasts, il mercato avrà entro il 2028 un tasso di crescita annuo del 42,2%. Maggio 2023 Intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale contro gli incendi boschivi Gli incendi boschivi aggravano il riscaldamento globale, danneggiano la biodiversità e hanno un impatto sulle comunità. L'IA potrebbe essere parte della soluzione. Aprile 2023 Fintech Insurch, innovazione e tecnologia al servizio delle assicurazioni Nel 2022 sono state registrate 120 startup Insurch che combinano assicurazioni e tecnologia Dai droni all'Internet of Dings, passando per intelligenza artificiale e machine learning, ecco come cambia il settore. Aprile 2023 carica altri articoli Grazie a tutti